Buongiorno perfetto, adesso apriamo un po' le serrande e facciamo il letto, tra 3, 2, 1, no, non è camera mia, questa è camera mia, letto fatto, adesso andiamo in garage, però non userò la porta, userò il teletrasporto, cazzo ha funzionato stavolta, la mia moto, adesso accendiamo tutte le luci, per la garage, perfetto, adesso andiamo sulla GoPro, eccoci, comunque ieri mi è arrivato un pacchettino da Alton, vediamo cosa c'è dentro, micro frecce led da mettere davanti, luce per la piatta così almeno a notte vedo qualcosa e frena a filetti, oggi andiamo a montare la piatta, le frecce e la luce, innanzitutto toglierei la mascherina, adesso togliamo il cablaggio, ed è venuto via, poi togliamo queste frecce che sono oscene, questo, una freccia andata, via che le mettiamo nel cimitero, delle frecce, queste sono tutte le frecce che ho, faretti, frecce, quindi queste, via, qua, questo quanto, andare a farsi fottere, vabbè, lo butto dopo, lo lascio, ho comprato anche i connettori per fare un bel cablaggio, adesso apriamo le frecce, ok, ok, oh, sono piccoline gli ho po', c'è, confronto, c'è viene una roba così, dai ci può stare, e il faretto lo mettiamo su, vai, vai, andata, 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 oh, ok, perfetto, adesso andiamo a mettere l'altro, guarda che non entra, ah, coi denti funziona, fanca**a, aia, ho dato una testata, ok, perfetto, non mi ricordo più come erano i cavi, giuro mi sto incazzando, prende, va da casa, dai veloce, 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 così va da casa a mangiare, veloce, 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 ok, quella lì funziona, oppla, questa sarà da invertire i cavi, penso, ce le mani radice, sciuste, sporche, luride, rozze, pezzenti, vediamo se funziona, questa non fa, io ho un po', perché non fa perché non fai comunque questa freccia non funzionava perché avevo messo male i cavi e sono riuscito a farla funzionare li ho messi meglio adesso andiamo a prendere il faretto e cerchiamo una posizione pienso di metterlo al posto del termometro qua in questo modo qui la piatta oltre a ad agganciarla qui sul parafango l'aggancio anche con questo supporto che ho fatto porco di quel lo avvito lì e poi vado a avvitare una vite qua prendiamo il flessibile e tagliamo la moto avviva buco fatto adesso faccio uno supportino per il faretto non sa chi schiccia nelle ciabatte dio tec tec bellissimo bellesimo si si ok i connettori miei si perfetto cazzo funziona tocco ok ci siamo lavoro finito piatta montata faretto led montato frecce montate così come si presentò dopo aver montato la piatta c'è stato un problemino però prima spostiamoci in garage e vi spiego cosa è successo eccoci in garage e nulla come potete vedere ho montato la mascherina per un semplice motivo mi ha fermato la polizia e mi ha detto che se mi ribeccano mi fanno un culo così e nel frattempo mi hanno fatto solamente una multa da 150 c'è solamente si poteva evitare però mi hanno fatto 150 euro di multa quindi ho messo la mascherina però prossimamente cambio il faro ne metto una led o c'è un altro in mente però costicchia quindi adesso devo un attimo vedere comunque la moto adesso è così con il faro e nulla non ho potuto registrare perché avevo la gopro presso quindi questo è l'unico video che ho fatto è un cazzo ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao